di reale, qualche parametro che varia prima di un terremoto in modo da poter in qualche modo creare delle allerte. E ho detto che ancora non ci siamo riusciti, né noi, né gli americani, né i giapponesi, però noi ci stiamo lavorando, abbiamo dei progetti che stanno andando avanti. Però poi io mi chiedo, ma il problema dell'allerta potrebbe essere tranquillamente evitato se noi avessimo delle costruzioni che resistono ai terremoti, perché anche se noi abbiamo delle allerte, per esempio adesso hanno diramato l'allerta rossa in Liguria per il maltempo, quante persone rispetteranno quell'allerta rossa? Certo. L'allerta rossa dice stai a casa, non andare in giro, quante persone poi avranno i comportamenti giusti in caso di allerta, quindi secondo me la cosa più importante è spostare il problema dall'allerta a come difendersi. Manca l'educazione, alla prevenzione. E manca un poco di, diciamo, forse chi l'ha provato è molto più sensibile, chi non l'ha provato un po' meno. Come ci diceva Gabriele. Attilio, torniamo un po' ai comuni. Dopo il censimento, cosa succede? Arriva il momento della ricostruzione, la legge 219. Nel dibattito che seguì alla fase dell'emergenza ci furono due orientamenti, mi ricordo. Uno era quello di dare un assetto più tradizionale alla ricostruzione e alla riparazione dei paesi colpiti dal terremoto e l'altro un assetto più moderno. In fin dei conti, la 219 fu una composizione imparfetta di questi due indirizzi. Quello che di buono fu della 219 è che impose entro 12 mesi ai comuni una serie di adempimenti di pianificazione totale del territorio, partendo da una pianificazione urbanistica a livello regionale fino ad arrivare poi ad una pianificazione urbanistica locale. I comuni dovevano, entro 12 mesi, redigere i piani regolatori generali o aggiornare quelli preesistenti. Tenete presente che, così come dicevamo prima col dottore, quasi nessun comune dell'Espinia era dotato di una strumentazione urbanistica generale, tipo il piano regolatore generale. Erano dotati tutti di piani di ricostruzione redatti in base al terremoto 62 che limitava la ricostruzione solo a quella fase là. Altri erano dotati di un regolamento edilizio con un allegato programma di fabbricazione che era già all'epoca uno strumento urbanistico molto antiquato. Addirittura non permetteva nemmeno la procedura espropriativa. Poi imponeva dai comuni la redazione dei piani di recupero in base alla regge 457 del 78, imponeva ai comuni la redazione di un piano di zona in base alla regge 167 del 62 per consentire poi la ricostruzione in quelle aree dei fabbricati che non potevano essere ricostruiti in sito. Ed infine dei PIP, dei piani di esitamento produttivi per consentire la ricostruzione in quelle aree delle attività industriali, artigianali, commerciali e addirittura turistiche. Ma questo che doveva essere una novità in effetti si manifestò poi un handicap sia per i comuni che per le regioni, in quanto furono presi dal caos, furono impreparati di fronte a questo problema e questo fu il vero problema dei ritardi nella ricostruzione. Poi quali furono i provvedimenti di quello che accadde dopo la 219? Dopo la 219 fu emanato il testo unico degli interventi nei territori colpiti dal terremoto. Un testo unico. Poi fu emanata la regge 32 del 92 che dettava nuove direttive in merito alla ricostruzione. Quindi in effetti i comuni dovevano redigere tre distinti elenchi, la lingua, la lingua B e la lingua C, che erano elenchi prioritari per l'emissione dei contributi. Quindi nella lingua A dovevano essere inseriti i nominativi di quelle persone che erano proprietari di un'unica abitazione che stavano ancora in alloggi provvisori o precari. Nella lingua B dovevano essere inseriti quei soggetti che avevano presentato domanda il 30 giugno 88 e progetto esecutivo entro il 30 marzo 89 e nella lingua C dovevano essere inseriti quegli immobili che facevano parte dei piani di recupero approvati alla data di entrata in vigore della legge. Tale legge poi prevedeva anche l'incomparibilità dei consiglieri comunali degli amministratori e successivamente poi la regione Campania ha mandato ai comuni di predisporre dei piani e programmi per la ricostruzione fino ad arrivare poi ai giorni nostri che è stato costituito un comitato presso la regione Campania di esperti per consentire il completamento della ricostruzione a cui fanno capo anche i sindaci di alcuni comuni danneggiati. In tal senso ti volevo chiedere come mai oggi alle porte del 2020 stiamo ancora ricostruendo con i fondi del terremoto dell'80 ma molte ricostruzioni sono relative anche al terremoto 62. Stiamo leggermente in ritardo? Il solito problema che ho detto prima era un problema di coordinamento, era un problema principalmente urbanistico, cioè lo stesso problema dell'Aquila e dei comuni del centro che erano sprovviste di strumentazione urbanistica, quindi in prima parola in assenza dei piani di recupero non potevano essere concessi contributi per la ricostruzione nei centri storici e quindi si è preferito darli nelle zone agricole preferendo i coltivatori diretti in base alla legge 12 e la legge dell'88. L'Aquila si è fatto il progetto case che ha circondato praticamente il centro storico di insediamenti nuovi. credo proprio, io la penso un po' diversa, si sta ancora ricostruendo perché in un certo momento della ricostruzione si è vissuto, si è andata alla ricerca dello scandalo a tutti i costi, un po' quella cattivella che oggi dico è in atto politicamente, di quella mancanza di comunità che esiste e che dovrebbe esistere nella nostra Italia e si è andata alla ricerca della ricerca dello scandalo a tutti i costi, per cui è nata allora, se ricordate, la famosa Erpinia Gate e tutto il resto e in quel momento si è bloccata la ricostruzione che invece fino a quel momento aveva spaventato tutti per come era andata avanti, diciamo la verità, cioè la ricostruzione della provincia di Avellino in Alta Erpinia era andata avanti in modo non notevole, era stata quasi, possiamo dire, completata, però poi bloccata al momento della conclusione dalla ricerca dello scandalo a tutti i costi. Quindi lei non crede nella speculazione di cui si parla tanto a livello di finanziamenti? Ma guardi, io penso in questo modo, lo dicevo prima, anzi lo diceva prima, nel momento in cui c'è stato il terremoto, grazie. Ovviamente non parlo di paesi come Sant'Angelo dove c'era un reale bisogno di ricostruire. Abbiamo avuto solidarietà sociale ma solidarietà anche economica da parte dello Stato. I fondi che sono arrivati in provincia di Avellino sono stati tanti e tali che oggi provocarebbero non una sola finanziaria ma più finanziaria dello Stato italiano. Io credo che con quei soldi che sono arrivati oggi l'Italia andrebbe in crisi economica. Per cui abbiamo avuto tantissimo, abbiamo avuto tantissimo. Poi c'è stata la ricerca dello scandalo a tutti i costi. Certo, probabilmente qualcosa, sicuramente qualcosa c'è stata, ma sono certo che si è andati alla ricerca in tutti i modi dello scandalo. Gabriele, spostiamoci un attimino sull'associazionismo che è un aspetto che anche a noi, anche noi come radio, ci teniamo tantissimo. In virtù di quello che è successo a Sant'Angelo... Mi permetti, scusami, di interromperte? Può sembrare sia la mia presenza qui sia quello che ho detto prima, ma solo non è così, che sono di parte, per cui sono con le misericordie. Io ho parlato infatti di associazionismo organizzato perché io credo e sono sempre certo che il volontariato non ha colore. Io parlo di volontariato, quando dico associazionismo parlo di volontariato perché anche noi ci spostiamo nel nostro piccolo laddove serve, anche nel privato. Quindi il volontariato è unico, è unico, assolutamente. Quindi le stavo chiedendo, sulla base delle vostre esperienze che sono sicuramente drammatiche e che non dimenticherete mai, come cambia il volontariato in quei territori? Beh, come dicevo, nei nostri territori il volontariato non c'era proprio, il volontariato organizzato. La mentalità, proprio la mentalità. C'era la solidarietà perché non è che i nostri paesi non conoscevano, non conoscono la solidarietà. Nell'ottanta noi abbiamo dato tanta solidarietà a tanti nostri paesi, ai bisognosi eccetera eccetera. Nell'ottanta nasce il volontariato organizzato. Oggi in provincia di Avellino esistono le misericordie e le ampas ed esiste la croce rossa. In un modo omogeneo. Quasi ogni paese ha una misericordia, un'ampas o una croce rossa. Questo per dire la verità è un impegno che abbiamo preso un po' tutti quanti noi. Perché? Perché noi crediamo che all'interno della stessa comunità deve nascere il volontariato per cui ogni comunità si deve aiutare se stessa. Quando proprio non ce la fa deve chiedere aiuto e devono intervenire gli altri. Però è all'interno di ogni comunità che deve nascere un'associazione di volontariato che si occupi di protezione civile. In questo momento particolare è vero che stiamo parlando del terremoto ma in questo momento particolare che si occupi di sociale. È importantissimo. Di quanti componenti possiamo, può avere, ha bisogno insomma, può contare? Allora io in questo caso devo parlare delle misericordie. Le misericordie in provincia di Avellino sono nate, le prime che sono nate è stata a Montefalcione, Avellino e proprio in questi giorni è venuto a mancare uno dei suoi fondatori, Giovanni Cini, che veniva dalla Toscana e è venuto qui a fare volontario e poi è rimasto come famiglia e ha organizzato le prime associazioni di volontariato. E per cui Montefalcione, Avellino, poi in man mano tutte le altre, oggi in provincia di Avellino le misericordie sono presenti con 35 associazioni in tutta la provincia di Avellino. È un numero importante. È diventato la provincia di Avellino con più misericordie in Italia, superando quello che diceva la Toscana che invece è il luogo dove sono nate le misericordie. Gabriele, c'è un cambio di tendenza relativamente a quella famosa sensibilizzazione nella prevenzione di cui parlava anche Maurizio? Si è più consapevoli di questo problema? Oggi noi ci mettiamo di fronte al problema solo quando si presenta? Come diceva il dottore prima, credo che con il progetto Io non rischio, seguito in particolar modo dalle ANPAS e ultimamente anche dalle misericordie, credo che questo progetto sta portando un vento nuovo nei giovani in particolare. Poi abbiamo in questo momento un'arma che secondo il mio parere è vingente ed è il servizio civile. Far avvicinare i giovani attraverso il servizio civile alle associazioni di volontariato significa inculcare nei giovani la solidarietà e la voglia di fare e non pensare sempre al giovane nulla facente. Io credo che i nostri giovani possono dare tantissimo. Stasera qui cosa diciamo a questi giovani per farli avvicinare al mondo del volontariato? Venite nelle nostre associazioni perché non noi abbiamo bisogno di voi, ma noi attraverso di voi, insieme a voi, possiamo aiutare i bisognosi. È un bellissimo messaggio, è ottimista relativamente a questa cosa, all'ingresso di tanti giovani, sempre maggiore. Sì, se seguiamo le parole del Papa di qualche settimana fa, se iniziamo a raccogliere dalla persona al nostro fianco le cose buone e tralasciamo le cose cattive, se facciamo sempre come diceva il Papa qualche giorno fa e mettiamo da parte chi? Nella politica, nell'economia.